Dal Vangelo secondo Giovanni Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro, Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario. Che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Dalle parole di Papa Francesco Dio ci chiede di guardare la vita come la guarda Lui, che vede sempre in ciascuno di noi un nucleo inzopprimibile di bellezza. Nel peccato vede figli da rialzare, nella morte fratelli da risuscitare, nella desolazione cuori da consolare. Pasqua è la festa della rimozione delle pietre. Dio rimuove le pietre più dure, contro cui vanno a schiantarsi speranze e aspettative. La morte, il peccato, la paura, la mondanità. La storia umana non finisce davanti a una pietra sepolcrale, perché scopre oggi la pietra viva. Gesù risorto Noi come Chiesa siamo fondati su di Lui e anche quando ci perdiamo d'animo, quando siamo tentati di giudicare tutto sulla base dei nostri insuccessi, Egli viene a fare nuove le cose, a ribaltare le nostre delusioni. Carissimi fratelli e sorelle, oggi Pasqua del Signore, Gesù è risorto, è veramente risorto, alleluia. Gridiamolo con gioia, con forza, gridiamolo a tutti e portiamo a tutti questo annuncio di gioia, di luce, di speranza, Per noi stessi, per il mondo intero, alleluia, buona Pasqua di risurrezione a tutti, Dio vi benedica. Alleluia, 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 alleluia. La mia Pasqua è il Signore, a Lui voglio cantare, la mia Pasqua è il Signore, a Lui voglio cantare, Pane bianco spezzato, vino dolce versato, per l'amore, per l'amore, alleluia. La mia Pasqua è il Signore, con Lui passo il mare, la sua destra è forte, affonda la morte, risveglia la vita nel fondo del cuore, risveglia la vita. La mia Pasqua è il Signore, a Lui voglio cantare, la mia Pasqua è il Signore, a Lui voglio cantare, Pane bianco spezzato, vino dolce versato, per l'amore, per l'amore, alleluia. La marcia nel deserto, con Lui è sicura, il Signore la roccia, Lui dà l'acqua viva, la mensa prepara, un popolo nuovo, la mensa prepara. La mia Pasqua è il Signore, a Lui voglio cantare, la mia Pasqua è il Signore, a Lui voglio cantare, Pane bianco spezzato, vino dolce versato, per l'amore, per l'amore, alleluia. La notte della storia, con Lui è l'aurora, il Signore è la luce, la strada è schiara, la Chiesa cammina, nel mondo che ama, la Chiesa cammina. La mia Pasqua è il Signore, a Lui voglio cantare, la mia Pasqua è il Signore, a Lui voglio cantare, a Lui voglio cantare, la mia Pasqua è l'amore, alleluia. E' l'ora dell'attesa, colui è preziosa, il Signore è lo Spirito in cuore alla Chiesa, soave presenza che dona speranza, soave presenza. La mia Pasqua, il Signore, a Lui voglio cantare, la mia Pasqua, il Signore, a Lui voglio cantare. Cuore bianco spezzato, vino dolce versato per amore, per amore, alleluia, alleluia, alleluia. Grazie a tutti.